Buongiorno amici, oggi se mi vedete con questi occhiali sapete che cosa sta per succedere In verità no, il titolo che ho messo è particolarmente fuorviante Sapete che ieri è finito Sanremo e chi sono io per non dire qualcosa su Sanremo C'è un unico anello qua, che bello eh È finito Sanremo, hanno vinto i nazi skin e chi sono io per non pronunciarmi su questa cosa Allora, in questo video cercherò di... che fa sempre parte del video diario E quindi cose che faccio per me C'è il tappeto storto, mi dà fastidio Ora guarderete solo il tappeto, così non guarderete i bellissimi fiorellini Comunque, all'interno di questo video cercherò di essere il più oggettivo possibile Vedremo alcune canzoni che sono state in gara a Sanremo Le valuteremo dal punto di vista della canzone, poi magari un po' dell'esibizione della Kermess Ma cercando di essere il più oggettivo possibile Quindi che mi piaccia o meno l'artista, cerchiamo di trovare i punti positivi e negativi eventualmente Allora, alcune canzoni non sono scusabili Di alcune non parleremo, in verità Perché non c'è tempo Allora, canzoni assolutamente non scusabili Cioè che sono, cioè, vergognose Quella di Joe Evan, principalmente E quella di Aiello Allora, signor Aiello Non è che sei obbligato a mettere il nome di una medicina in una canzone Cioè, diciamolo tutti insieme Ripetete con me Non è obbligatorio inserire il nome di una medicina all'interno di una canzone Ok? Siamo d'accordo? Tutti d'accordo su queste cose Quindi questa qua, eliminiamola, non ne parliamo nemmeno Quella di... Come si chiama? Il mio amico Il mio amico Non mi ricordo nemmeno come si chiama Come si chiama? Il mio amico Dai, quello lì, simpatico Che fa quello un po' bello, insomma, no? Che è famoso perché è bello Come si chiama? Irama, Irama, eccolo Anche su questa è sparare sulla croce rossa Tra l'altro Quindi, queste qua sono canzoni che vanno bene se hai 12 anni, ecco, insomma Che ti piace l'artista fisicamente E, bene, non so se si può dire È bello Irama è bello Come Alessandro Borghi Quindi, non so se si può dire che è bello Comunque sì, andiamo a vedere invece qualche canzone interessante Che era in gara Ok, allora, quella dei Maneskin Quella dei Maneskin non è male Non è male Allora, i Maneskin hanno un piccolo problema E cioè che le loro canzoni sembrano un po' tutte uguali Siamo d'accordo Questa canzone inizia Che è un po' Diciamo Funk rock E ha un ritornello quasi alternative metal Attenzione a quasi Perché ovviamente non è alternative Ma Fateci caso Sembra un po' Lontanamente, eh Dico lontanamente Insomma, un paparoccio Se sapete cosa intendo La canzone è ottima Comunque è una bella canzone Se dovessi dargli un voto oggettivo Alla canzone in sé Direi Sette Il testo Non si è obbligato a dire Siga e fra Ok? Cioè non è obbligatorio dire Siga e fra Diciamoli insieme Non è obbligatorio Come esibizione Come valenza per l'Eurovision Sicuramente esteticamente sono adatti La canzone forse non tanto All'Eurovision Una volta ha vinto Hard Rock Alleluia Siamo d'accordo Però esteticamente invece Molto Adatti Diciamo Ottima esibizione Anche ci credono molto Sanno tenere il palco Bravi Bravi Quindi Se qualcuno vi dice Che è una canzone di merda Ascoltatela bene Cioè datgli un giudizio oggettivo Non si può dire Che sia insufficiente Cioè Poi mi dite Sette, otto, nove Sei Ok Ma se qualcuno da cinque Ha dei problemi alle orecchie Francesca Micheline Fedez Chiamami per nome Bella A me piace molto Perché mi piace molto La Micheline E tra l'altro Ci sono state polemiche Sul fatto che Fedez non sappia cantare Io Cioè sinceramente Non ho capito Da dove arrivano Non ha una bella voce Come timbro Magari Come espressività Ma non si può dire Che non abbia la tecnica Tra l'altro Nella serata cover Hanno cantato Quel medley Che è difficilissimo Da cantare Andate a sentire Fedez Come canta Come fa i cori Come fa le doppi Gli attacchi I tempi È perfetto Cioè la tecnica di canto Di Fedez È perfetta Non gli si può dire niente Quindi se qualcuno dice Che Fedez non sa cantare Ha dei problemi Alle orecchie Comunque invece La canzone che hanno portato Bella Mi piace molto Il ritornello Devo dire Se gli dovessi dare un voto Sette Anche questa Hermal Meta No Un milione di cose da dirti Non mi piace Hermal Meta Sinceramente Non è una canzone brutta Sei Non mi dice nulla Ok Bravo Con la pesce di Martino Musica leggerissima Mi piacciono molto Con la pesce di Martino In real life Questa canzone è un po' strana Perché si sente che ha Delle influenze Forse un po' troppo Neomelodiche Soprattutto nel ritornello Però è bellissimo Molto divertente Forse la Una delle canzoni più belle Del festival Otto Per questa canzone Bellissima Perché loro sono molto bravi Comunque c'è tutto C'è il testo C'è Il testo Ecco Forse è il testo più bello Di tutta la Kermess Si può dire Sì Ottimo testo Ottimo arrangiamento Le voci Tutto bellissimo Ecco dal vivo Non è che sono così Incredibili Sul palco Però Va bene così Irama Togliamo Willy Peyote È una canzone di Willy Peyote Bene Anna Lisa Molto brava Ma non ci interessa Andiamo sulla canzone importante Madame Madame ecco Quella di Madame Mi sembra molto sopravvalutata Piace molto ai giovincelli Diciamo Però non è un gran che Cioè Ascoltatela bene Non è un gran che Può dare di più Magari con qualche altra canzone In futuro Sicuramente Questo è un capolavoro No Anna Lisa Molto brava Però possiamo evitare Canzone più importante Del festival Orietta Berti Quando ti sei innamorato Ok Orietta Berti Non si può dire Un cazzo Di questa canzone La canzone è bellissima Però Secondo me Adesso Ascoltatela una volta E ditemi se non ho ragione Se c'è qualche produttore In ascolto Salutiamo tutti Intanto saluto Rudy Zerbi Saluto Mara Maionchi Saluto Caterina Caselli E Alan Parson Che non era un produttore Ma lo saluto lo stesso Perché è un mio amico Fate fare questa canzone A Massimo Ragnieri Cioè Siamo tutti d'accordo Che questa è una canzone Di Massimo Ragnieri È fatta per lui Fategliela fare Vi prego Una cover Cioè subito Diventa la canzone più bella Dell'anno Canzone bella È molto bella Appunto Molto classica Cioè ovvio Rieta Vertice Da 78 anni Sembra mia nonna E Cioè non ironicamente Mi sembra proprio La nonna Camilla Ok Cioè è lei Guardatela E ditemi se non è La nonna Camilla Tutti abbiamo una nonna così Ottima canzone Bellissima La rappresentante di lista Allora La rappresentante di lista Mi piace molto Questa canzone È Sei Alla canzone Bravissima La rappresentante di lista Ha fatto molto di meglio Voce paurosa Pazzesca forse È la voce più bella Del festival E c'era anche la Michelina E c'era anche Anna Lisa E c'era anche Arisa Ma anche noi Miche comunque Non mi dispiace Saltiamo qualcuno No Extra Liscio Davide Toffolo Mi piace molto Mi è piaciuto molto La serata Cover Bellissima La serata cover Poi magari dopo Vediamo anche qualche accerno A quelle canzoni Che ci sono state È la canzone Che ha fatto lì Era molto bella Questa È una canzone È una canzone Che esiste Nel festival di Sanremo Attenzione Posto 13 Lo stato sociale Combat pop Oh Combat pop com'è? Non è male Allora Devo dire che Forse l'ho già detto qualche volta Sono stato un fan Dei Dello stato sociale Antelitteram Quindi diciamo Tu rischi della democrazia 2012 Quando ero giovane Visti dal vivo Più volte Blah 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 Poi Le svolte che hanno avuto Negli album successivi Sì mi piacevano così Perché sono canzoncine allegre Senza nessun pregio musicale Nessun pregio di te Niente Però sono canzoncine allegre E vanno bene Questa combat pop Non è male Sicuramente più bella di Come si chiamava? Una vita in vacanza Che quella sembrava davvero Una canzone dei giornalisti Cioè Ok Esiste Una canzone che esiste Questa invece no È carina È un testo divertente Quindi questa Io gli darei 8 Perché Cioè sulla fiducia Perché è effettivamente Una bella canzone Musicalmente Ottimi richiami Ottime esibizioni dal vivo Tutto bellissimo Noemi Mi piace molto Noemi Ma va bene Malikaiane Va bene È scritto da Pacifico Tra l'altro Quella di Malikaiane Bene Esiste Una canzone che esiste Fulminacci Allora Fulminacci Ok Cioè una canzone Anche questa Sufficiente Santa Marinella Secondo me Allora Fulminacci L'ha ascoltato un po' I suoi dischi Quello che ha fatto Eccetera eccetera Non è che non è Bravo Non ha ancora fatto Niente di incredibile Ecco Tutte le canzoni che fa Sono davvero Sia musicalmente Che come testi Molto No Adolescenti Così Cioè delle canzoni Che ascolti Dici Beh Bella questa Canzone Speriamo faccia qualcosa di bello In futuro Però Fa un po' cagare Cioè la canzone è sufficiente Però non vuol dire nulla Non ha niente Non è né carne né pesce Cosa di Max Gazzee Allora Max Gazzee Non so parlare Il signor Gazzee Max Gazzee Mi piace Sì Tendenzialmente si Ha detto delle ottime canzoni Esteticamente bellissimo Cose incredibili Che ha fatto Durante il festival Però questa canzone No Cioè sinceramente Questa è ecco Una delle canzoni più brutte Di Gazzee Della storia Oltre che dal punto di vista Scientifico E farmacologico Sono assolutamente Scorrette Saltiamo qualcuno Coma cose Questa è arrivata ultima Giustamente Cioè tra le ultime Giustamente Perché la gente Non capisce un cazzo Però questa è Forse La Seconda canzone Più bella Del Del festival Sì Assolutamente Bellissima Bellissimi loro Che cantano Bellissimi i suoni Bellissimi il testo Adatto Proprio alla loro storia Cioè non gli si può dire un cazzo Questa canzone È Oggettivamente bella Gamon Allora Gamon È bravo Gamon Ma È un po' come Fulminacci Non ha mai fatto Cioè Fa delle canzoni Così Canzoni Che esistono Che si ascoltano Un po' di quella roba Gamon Che ho scoperto che un po' di quella roba Non si dice in tutta Italia Se sapete cosa vuol dire Bene Meglio per voi Però dai un po' di quella roba Spero che la gente inizia a utilizzarlo Ma appunto Vabbè Francesco Renga Sparare sulla crocerosa Gioeva Non lo contiamo Bugo Signor Bugo Cosa mi combina No Allora Bugo mi piace molto Anche lui La canzone è molto bella Se l'ascoltate In studio Belli Cioè Molto bella Influenze battistiane Adriano Pappalardo Un po' Se volete Bellissima Molto bella Però dal vivo Mi dispiace Cioè no A differenza di Fedez Che invece è perfettamente intonato Perfettamente a tempo Capisce perfettamente gli attacchi Sa fare i cori Quindi non gli si può dire un cazzo Dal punto di vista del cantato Bugo ha questo problema Di essere un po' stonato Come era Battisti Siamo d'accordo Sì Battisti Non cantava dal vivo Perché era molto stonato Si può risolvere? Credo di sì Non sono un insegnante di canto Ma credo si possa risolvere Perché non è stato risolto Fino adesso? È un'ottima domanda Non lo so Peccato Cioè Peccato Perché poi sul palco Ci sa stare bene Ma Gli manca No Un po' di quella roba Aiello abbiamo già detto Vabbè lasciamo stare Andiamo invece Ah no no invece Menzione d'onore Nuove proposte Secondo me La canzone che non ha vinto È la canzone più bella È bellissima Regina di Davide Shorty È una canzone della Madonna Doveva vincere Sanremo Big Però evidentemente la gente Non capisce un cazzo Allora così Faccio il previsione Che non vale un cazzo Perché Regina di Davide Shorty Sarà La canzone più famosa Di questo festival Vedrete questa Quest'estate Perché è bellissima C'è proprio bella Allora andiamo invece a vedere Giusto così Per dire qualcosa Sulla terza serata Cover Allora partiamo Esibizione bellissima Che appunto fa Rivalutare Fulminacci Fulminacci Valerio Lundini E Roy Paci Penso positivo Capolavoro Soprattutto per la parte Di Lundini E mi è piaciuto molto Fulminacci Che parte Suonando il groove Di batteria Della canzone Bello Mi è piaciuto molto Extra liscio Davide Toffolo Bello Rosamunda Medley Molto divertente Bugo I Pinguini Tatti C'è un'avventura Ok Che Battisti Era stonato Come la campana Ho capito Che sta eccitando Il fatto che era stonato Mi spiace Francesca Michelin E Fedez Bellissima E allora Felicità Bellissima Molto bello L'arrangiamento Molto bello Come è stata cantata Molto difficile da cantare Molto belle le canzoni Scelte Perfetto Molto bello Che inizia con lei Il pianoforte Bellissimo Irama Cirano Mi dispiace Cirano è una delle mie Canzoni preferite Nel mondo Di Guccini Vabbè Maneskin e Manuel Agnelli Amandoti Bellissima C'è un capolavoro Capolavoro Willy Paiote Samuel Bersani Giudizio Universale Vabbè grazie a cazzo Fai giudizio universale Come fa a far cagare No? Siamo d'accordo? Splendito Splendente Rappresentante di lista Donate alla Rettore Bella Perché la rappresentante di lista È molto brava A fare le cover Soprattutto Rettore Bertè Con le canzoni lì C'è un'ottima cover di E la luna bussò Su Youtube Bellissimo E basta Poi gli altri Sì Sono cose che esistono Lo stato sociale Si è portato Emanuele Afanelli Bello Hanno fatto lo stato sociale Cioè Ottimo Ok Ottimo Ottimo Coma cose Con Alberto Radius Il mio canto libro Tutto perfetto Bellissimo Bellissimo Canzoni belle Devo dire Hanno scelto Quasi tutte Ottime Quelle che hanno scelto Per Per le cover Comunque allora Fatemi invece sapere voi Cosa ne pensate Di questo festival Se chi ha vinto Se non meritava Se secondo voi ci sono Canzoni Che fanno cagare Io ve ne ho dette due Che proprio sono brutte Le altre si salvano tutte Indubbiamente Alcune sono più belle di altre Indubbiamente Qualcuno può migliorare Poteva portare qualcosa di meglio Sì Ad esempio Qua di Manes Che non è la loro canzone più bella Ovviamente Però è un'ottima canzone Se non avessero vinto loro Chi avrebbe dovuto vincere Boh Niente Noi ci vediamo Probabilmente mai più Ciao